Grande colpo difensivo, D'Oriociaghi di sinistro, entra e clamoroso, esce di scena il numero uno, realizza il suo sogno, quello di vincere una medaglia, ma non si accontenterà certamente. Partecipare alle Olimpiadi, penso che sia il sogno più grande e più bello al quale possa ambire un qualsiasi atleta. Nel combattimento, durante i momenti di studio del mio avversario, ho molte volte la sensazione di sentire il suo battito del cuore. I secondi che precedono la fase del calcio sono secondi intensi, significativi, carichi di adrenalina. E dopo aver dato il calcio ti volti rapidamente verso il display e speri tanto che quel punto sia segnato a tuo favore. E questo ti dà ancora più carica, ancora più grinta, è un'emozione unica. E questo ti dà ancora più carica, ancora più grinta, è un'emozione 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 un'emozione. E questo ti dà ancora più grinta, è un'emozione 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 un'emozione. E questo ti dà ancora più grinta, è un'emozione 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 un'emozione. E questo ti dà ancora più grinta. E questo ti dà ancora più grinta. E questo ti dà ancora più grinta.